Sarebbero 57 gli esuberi previsti alla Becquert ex Pirelli di Figline. A distanza di un mese dalla presentazione del piano industriale da parte dei vertici aziendali della multinazionale belga, durante una riunione tenutasi presso la sede dell'Associazione Industriale a Firenze, riprende la trattativa fra organizzazioni sindacali e proprietà. La prossima settimana è previsto un nuovo incontro. Se è vero che la multinazionale ha deciso di mantenere presso lo stabilimento figlinese il centro di ricerca e sviluppo, è anche vero che sono stati annunciati appunto degli esuberi. Su questo aspetto si concentra adesso l'attenzione delle organizzazioni sindacali, volta a contenere il più possibile licenziamenti. Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Figline Incisa, tra l'altro, è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico, nel quale si impegna la Sindaca Mugna e la Giunta ad adoperarsi affinché vengano mantenute certezze e garanzie per il futuro dello stabilimento figlinese. Insomma, si cerca di trovare un accordo con l'azienda per scongiurare i licenziamenti previsti o quantomeno di ridurre il più possibile il rischio di ridimensionamenti occupazionali.